Un saluto a tutti i videoascoltatori del canale YouTube d'Italia Medievale. Oggi presentiamo una cosa, io direi particolare, e lo facciamo in occasione della ristampa, perché era già un po' che era stato pubblicato, e si tratta del Tacquinum Sanitatis di Bevagna. Perché di Bevagna? Perché è la stampa anastatica di un manoscritto conservato nella biblioteca comunale di Bevagna e dato alla luce grazie all'intervento della Gaeta Santa Maria, una delle quattro Gaete del mercato delle Gaete di Bevagna. Io come al solito non rubo tempo ai nostri ospiti e darei subito la parola a un rappresentante della Gaeta Santa Maria, promotore di questa interessantissima iniziativa, che si chiama Alfredo Properzi. A te Alfredo. Grazie, grazie Maurizio per l'occasione che ci dai di poter parlare di questo testo importantissimo ritrovato a Bevagna, e grazie al professor Maurizio Togliani che ne ha curato l'edizione. E perché? Mi interessa parlare di spiegare il legame che c'è tra il libro, il manoscritto, Bevagna, le Gaete e la Gaeta Santa Maria. Diciamo che da quasi più di trent'anni, Bevagna una volta all'anno si sveglia. E questo lo fa grazie al successo crescente che la manifestazione che appunto si chiama Mercato delle Gaete ha portato. Quando alcuni anni fa, insomma una trentina di anni fa, pensammo a creare un progetto culturale che ci portasse alla riscoperta della nostra storia, della storia di Bevagna. Non pensammo all'epoca romana, anche se tuttora Bevagna conserva bellissime testimonianze. Bensì all'età medievale perché la sua struttura architettonica, i suoi vicoli stretti e bui, i suoi corti, la sua piazza con i suoi mirabili esempi di arte gotica romanica, costituono sicuramente uno sfondo ideale per la festa. Infatti, dalla lettura dei nostri statuti, i nostri statuti cinquecienteschi, ma di cui la prima elaborazione è del Trecento, testimoniavano e dividevano e elencavano il paese in quattro gaete, in quattro porte o quattro rioni. Da lì l'idea appunto da un gruppo di appassionati di storia medievale, l'idea di iniziare questa rievocazione storica che trent'anni fa magari poteva sembrare, sarebbe dovuto pensare a un... chissà, nessuno avrebbe scommesso sulla riuscita di questa festa. Invece negli anni la festa è cresciuta sempre di più, tale da attirare un enorme pubblico e grandi studiosi. insomma. Al di là del tacco in nome, nell'archivio comunale, al di là degli statuti, nell'archivio comunale, sette anni fa riscoprimmo anche un manoscritto del XIV secolo, il manoscritto di cui parlerà il professor Tugliani, che è appunto risultato essere un tacco in nome sanitatis. Il filo quindi che lega la festa e questo tacco in nome è evidente. Il mercato delegato è una rievocazione storica del 1300, il tacuinum è un manoscritto del 1300, quindi il legame è stato fortissimo. Da qui la volontà di alcuni componenti della Gaeta Santa Maria di poter far rivedere finalmente la luce, dopo 200 anni della sua presenza a Bevagna, la luce a questo testo. Quindi ecco, sette anni fa è stata fatta una prima pubblicazione, attualmente c'è la ristampa e quindi è questo. Ecco, mi interessava sottolineare questo rapporto appunto tra il testo e la nostra festa. Io darei a questo punto la parola a Maurizio Tugliani, che è ricercatore in storia medievale all'Università di Siena, che ha curato la traduzione e l'edizione anastatica di questo importante tacuinum sanitatis. Prego, dottor Tugliani. Buonasera a tutti, buonasera a Maurizio, buonasera a Alfredo, saluto con piacere e buonasera a tutti gli utenti di Italia Medievale che so essere numerosi e interessati sempre alle vostre trasmissioni. che dire, è un piacere innanzitutto stare qui con voi ed è un piacere anche nell'occasione della ristampa di questa edizione del tacuinum sanitatis. Devo dire che, come già anticipato Alfredo, che alcuni anni fa, quando capì che il codice che si trovava presso la biblioteca di Bevagna era un codice importante, chiesi subito ad Alfredo di poterlo visionare. Il tacuinum sanitatis è un'opera molto nota nel panorama della storia medievale italiana, ma soprattutto è conosciuta la forma illustrata, cioè quella di Tardo 300 e 400, perché, diciamo, le scene di vita quotidiana sono particolarmente belle, studiate dal punto di vista artistico e studiate anche dal punto di vista della storia sociale. Ed io le conoscevo bene, essendomi occupato di mercati, di storia dell'alimentazione e molte di queste scene trattavano questi argomenti. Però il tacuinum che è presente a Bevagna non è un tacuinum illustrato, è la versione precedente, quella integrale. Più avanti vi proverò a spiegare anche la genesi di questo volume e quando lo vidi naturalmente rimasi da una parte particolarmente colpito per la bellezza dell'opera, ma allo stesso tempo devo dire anche un po' preoccupato, diciamo, di intraprendere l'offerta che Alfredo mi aveva proposto, cioè di una traduzione del testo stesso. L'edizione, che è questa, che vi faccio vedere, si compone di due volumi. Questo alla mia destra è la ristampa e questo è la traduzione e la trascrizione, ma come vedrete così si presenta il volume e sono 40 carte con testi e soprattutto corredate appunto di tabelle sinottiche davvero molto complicate nella sua interpretazione. Quindi un po' l'affetto verso quest'opera, un po' l'istinto, che poi, come con il tempo ho tradotto in incoscienza, mi portarono ad accettare questo lavoro che è durato diversi anni, come potete immaginare. Subito mi sono preoccupato e mi fa piacere, è giusto citarle, chi mi ha sostenuto e chi mi ha dato una mano nel portare avanti questo lavoro, che è un lavoro alla fine a più mani. Innanzitutto c'era il problema del latino, di un latino tradotto dall'arabo, che portava molti termini quindi di origine araba e di derivazione greca. E quindi mi sono avvalso della collaborazione di Francesco Monticini e Stefania Santoni, due amici e un'amica e un'amica, giovani laureati, che mi fece piacere di coinvolgere perché erano dei latinisti e che ora stanno continuando con successo la propria carriera, e poi del professor Leonardo Magionami, che insegna codicologia all'Università di Siena per un'analisi anche del manoscritto. Questo quindi ci ha portato alla trascrizione completa del testo, che abbiamo riprodotto rispettando anche nella traduzione, come farò vedere, le tavole, quindi anche la trascrizione e la traduzione rispecchiano fedelmente quella della struttura particolare del tacuinum, e un intervento nell'introduzione del professor Magionami, che spiega tutte le vicende del codice, perché il codice stesso è un oggetto particolarmente interessante. Nell'introduzione stessa ho cercato io, in un piccolo saggio, anche di fare la storia dell'opera e dell'autore. Cercherò, magari per chi è interessato, entrare un po' nell'argomento stesso del libro, di questo volume, che credo presenti gli aspetti particolarmente interessanti. e bisogna a questo punto fare un salto indietro nel tempo, perché, come ho appena accennato, realmente già il tacuinum medievale, che è un codice, come Maurizio avevi detto all'inizio del XIV secolo, intorno alla metà del XIV secolo, realmente è una traduzione del codice originario arabo, perché l'autore è un arabo, ma, badate bene, di origine cristiana, è molto interessante, nato a Baghdad, intorno alla metà del X secolo, e battezzato, quindi, anche alla fede cristiana, con il nome di Giovanni. Ibn Gutlan non è altro che uno dei più importanti medici e filosofi del mondo arabo dell'XI secolo. Ha una formazione importantissima all'interno della colta città di Baghdad dell'XI secolo. Si forma soprattutto in ambito filosofico, come è abitudine nella formazione più completa del tempo, e poi prende, in qualche modo, la sua, diciamo così, specializzazione in campo della medicina. Una medicina che al tempo era forse quella più avanzata, quantomeno nella parte dell'emisfero che riguarda l'area medio orientale ed europea. Medicina che si ispirava alla colta formazione araba collegata al mondo dell'antica Grecia, quindi da Ippocrate e poi da Galeno, che furono gli esponenti più importanti. Ecco, in questo mondo Ibn Butlan diventa una figura di riferimento e nell'ambiente medico del tempo mette insieme tutte le sue conoscenze in un taquinum, che nel mondo arabo prende il nome del taquin al-sicha. Taquinum è la traduzione latina, realmente è una traduzione fedele della parola che potremmo così letteralmente indicare come raddrizzamento e al-sicha, che significa la salute. Quindi tutte le norme che raddrizzano, che indirizzano la salute. E lo fa in quella che invece è una sua prerogativa, cioè l'utilizzo di queste tavole sinottiche che praticamente prendono quasi completamente la struttura dell'opera. Sono 40 tabelle che presentano al proprio interno sette voci che parlano in gran parte di alimenti, perché la medicina del tempo si basa soprattutto sulla dietetica, e quindi una medicina che previene. Capite quanto moderna può essere? Che previene più che cura e questi alimenti sono circa i tre quarti del contenuto, ma la medicina non semplicemente è l'elemento che cura e previene. Si deve integrare anche con tutto quello che sono le cose più importanti nella salute dell'uomo del tempo. E sono anche il luogo dove si vive, le attività che si svolgono, le relazioni che si hanno e tutto ciò che è legato alla cura del corpo. Come sapete è particolarmente legato a quello che è ad esempio il bagno e la cura della pelle. Tutti questi elementi che sono i più importanti, cioè le sei cose necessarie all'uomo, ci dice Ib Butlan, vanno a integrarsi in queste 280 voci. Quindi 30 riguardano il cibo l'alimentazione, 10 riguardano questi altri aspetti. Ognuna però di questi elementi è poi suddivisa all'interno del taquinum in 15 colonne che ne indicano quelle che sono in qualche modo le caratteristiche di questi generi. Magari forse per semplicità provo a condividervi un'immagine di una di queste tavole per rendere un po' più chiaro quello di cui stiamo parlando. Parto da quello che era l'incomprensibile avevano scritto originario, arabo, è una delle copie esistenti del taquinum al-sikha appunto di produzione araba. Non è l'originario di Ib Butlan ma una copia del tempo e naturalmente avverto che si troverà invertito perché la scrittura come sappiamo andava da destra verso sinistra rispetto a quello che è invece il nostro taquinum in forma latina che vado a mostrarvi poi ora magari per semplicità. Eccolo, come vedete 7 sono i campi e 15 sono le colonne. Prerogativa interessante anche di questo manoscritto è che la lettura è su due pagine quindi non si legge individualmente la pagina di sinistra la pagina di sinistra ma la lettura è a libro aperto e si sviluppa quindi in orizzontale dal lato sinistro del margine del volume fino al lato destro. Qui nel dettaglio non sarà facile magari per gli ascoltatori leggere però in verticale si sviluppano 15 voci. Sono intanto il numero progressivo della voce ma poi anche il nome, la natura della voce stessa, il grado, la miglior qualità di questa, il giovamento che questo elemento porta, il danno che questo elemento porta, come si rimuove il danno nella colonna numero 8, ciò che produce nell'individuo questo elemento, il temperamento che è una caratteristica che si rifà a quella che è la differente caratteristica di composizione di ognuno di noi, l'età adatta, il momento dell'anno adatto, i luoghi adatti e qui siamo a 13 colonne, si interrompe la parte a sinistra della tabella. Solo due colonne sono dedicate alla parte destra e sono qui sintetizzate nelle scritte verticali rosse che sono gli autori a cui si è ispirato nelle sue conoscenze di Butlan e poi una parte testuale che vedete abbastanza estesa che invece è l'esame pratico da parte di Butlan dell'utilizzo di questi elementi. In qualche modo quindi Butlan dà dei consigli anche pratici sull'utilizzo di questi alimenti, dice quali sono e come utilizzarli per risolvere i problemi. Vado a farvi vedere anche la trascrizione stessa del testo che come vedete abbiamo riprodotto fedelmente. Non potevamo fare lo schema incrociato per motivi editoriali, ma forse nello scioglierlo in forma orizzontale completamente anche la tabella sinottica abbiamo creduto che fosse anche di più facile lettura. Perché tutto questo? Perché nella concezione medica del tempo praticamente il nostro corpo viveva di determinati equilibri. In base a dove risiedevamo, in base alle nostre caratteristiche, in base a ciò che era il nostro temperamento, dovevamo mantenere un equilibrio. Questo equilibrio poteva essere rotto da una serie di incidenti che potevano avvenire durante la nostra vita che portavano quindi a delle malattie, a delle situazioni che provocavano del danno. Ecco, la medicina interveniva da un lato nel cercare che ciò non avvenisse, seguendo dei buoni precetti dietetici. Dall'altro, se ciò avveniva, provava a dare dei rimedi controbilanciando queste situazioni con una serie di alimenti che potevano far bene al soggetto stesso. Quindi tutto ruota intorno a un equilibrio che se si rompe deve essere naturalmente poi rimesso in ordine. E questo, come dicevo prima, non solo con gli alimenti, che comunque sono la parte preponderante, ho detto 30 delle 40 tabelle che riguardano gli alimenti, ma anche con principi di igiene e di salute. Non solo, ma anche con principi di attività di esercizio fisico sano, con principi di esposizione corretta dell'abitazione e dell'aria alla quale sono esposte le abitazioni. Quindi, se lo vogliamo vedere nel suo complesso, un'opera estremamente attuale e moderna, perché la medicina, e poi magari Alfredo che è medico ci potrà dire qualcosa, la medicina moderna sta molto tornando su questi aspetti, no? Quindi, intanto una medicina che previene e non cura, ma poi soprattutto una medicina molto salutistica. E qui vediamo l'estrema modernità di quest'opera. Particularmente interessante, credo, sia anche il percorso che questo medico fa nella propria vita e che ho provato poi, per tracciarne il profilo, a inquadrare nell'introduzione. Ibogutlan divene famoso e, dopo aver scritto il Tahuinum, acquista certamente una rinomanza a livello totale nel mondo arabo, tanto che a un certo momento decide di, in qualche modo, di mettersi in gioco e scontrarsi con uno dei più famosi, uno dei più famosi medici del mondo arabo, che è Al-Razi e che risiedeva al Cairo. E da Baghdad, immaginate, intraprende un viaggio per andare a discutere su precetti di, diciamo, di natura medica, su alcuni elementi, in particolare sulle caratteristiche di alcuni animali, al Cairo. È un po' un'idea, un concetto che per noi è stranissimo, però il concetto del viaggio, che è un concetto di un viaggio anche di formazione, lo troviamo anche in chi è come Ib Butlan, completamente noto e famoso. Il suo viaggio, tra l'altro, parte per il Cairo nel 1047 e ci mette circa due anni per arrivare, perché dovunque è talmente famoso, dovunque si ferma, è ospitato a corte e tenuto il più possibile. Dopo due anni arriva il Cairo e si mette, in qualche modo, a fare questa disputa importante col suo altro grande concorrente di fama, diciamo, totale nel mondo arabo, Arrasi, e ne scaturisce per due anni una serie di scontri e di dibattiti, dal quale si desume e ne esca perdente, perché alcune lettere che sono rimaste e sono, diciamo, state studiate dallo studioso belga El Kadem, ci dice che se ne va, diciamo così, molto irato e arrabbiato dal Cairo dopo sette anni di disputa. Se ne va verso Costantinopoli, dove è in atto una grave situazione di pestilenza per cercare di dare un contributo. Vi arriva a Costantinopoli, ci starà solo un anno, scrive alcune cose e poi se ne ritorna, ma non torna a Bagdad. Era stato nel suo viaggio di andata ad Antiochia, aveva trovato lì probabilmente le sue condizioni ideali e si ferma a contemplare i suoi studi, a meditare e a scrivere ancora fino al 1063, data certa della sua morte. Davvero, ecco, a me è incuriosito molto questo personaggio, di cui appunto ho tracciato un po' le vicende, perché è un personaggio, anche esso, che sarebbe molto interessante venisse ad essere conosciuto, credo, in questi tempi. Un medico che ha questi precetti di medicina molto moderni e un medico di cultura araba, ma cristiano, in una Bagdad molto aperta, diciamo, in questo momento. In questi giorni che il Santo Padre si è recato a Bagdad, appunto, in Iraq, mi è venuto proprio in mente quanto sarebbe interessante se queste due grandi civiltà collaborassero finalmente invece di avere questo dialogo assolutamente gelido di questo ultimo secolo. Ma detto questo, provo velocemente a arrivare al nostro taquino, quello medievale, perché l'opera di Ibn Butlan naturalmente non ha solo fama nel mondo arabo, ma comincia ad avere fama anche in quella parte di continente europeo che è prettamente vicina alla cultura araba, soprattutto nella parte dell'Italia meridionale. E probabilmente è proprio in quell'ambiente che intorno alla fine dell'undicesimo secolo Costantino l'Africano, un medico e filosofo alla corte di Sicilia, porta quasi con certezza a conoscenza di tutti il taquino, ma il taquino è ancora nella versione araba. Però ovviamente per la modernità delle conoscenze mediche il taquinum si diffonde finché non se ne decide una traduzione al latino. Non sappiamo esattamente a quando risale la prima versione del taquinum, però dei pochi tra cui non rimasti sono all'incirca 20 i manoscritti, alcuni, solo pochi, riportano la data di trascrizione o traduzione, non sappiamo quale, risalgono intorno al 1257-1258 e sono non casualmente prodotti alla corte di Manfredi. Velocemente il testo ha una grande diffusione, tanto che dei 20 esemplari rimasti noi ne ritroviamo traccia, e di questo Bevagna credo debba andare orgogliosa, solamente nelle più grandi biblioteche europee che poi rappresentano quella che era l'espressione massima della grandezza delle città del tempo. Infatti tre manoscritti sono conservati a Parigi, è conservato un manoscritto a Vienna, è conservato un manoscritto a Cambridge, è conservato un manoscritto a Venezia, poi ne sono un'altra copia a Milano, tre copie sono a Roma, al Vaticano, e altre nelle altre città più importanti, Firenze ad esempio, che sappiamo l'importanza che al tempo aveva già ormai raggiunto questa città. Ecco, il Takuino ormai, è chiaro, ha raggiunto una dimensione europea, un'importanza assolutamente totale. tanto che dalla seconda metà del 300 comincia anche ad essere un oggetto che vuole essere presente nelle casse dei grandi personaggi del tempo, ma non nella forma di prontuario medico come abbiamo visto, quindi finalizzata all'utilizzo della professione, ma come libro di arredo, e ne viene fatto quindi un codice miniato, tolte gran parte delle, eccolo qua, una delle immagini ad esempio, tolte gran parte del testo e raffigurate invece le scene legate ad ognuna degli elementi, neanche gli elementi vengono ridotti per spazio, chiaramente, e indicate sotto la scena solo le caratteristiche principali. Ormai queste opere qui hanno perso ovviamente la finalità di prontuario medico per chi esercita la professione, ma sono ormai opere assolutamente di arredo per le grandi corti e per i grandi principi. Contestualmente però, alla fine di questo percorso che dura per tutto il XV secolo, in qualche modo c'è anche un calo di interesse per l'opera stessa dal punto di vista medico. Opera che invece poi riviene rivalutata, solo per dare traccia di quella che è l'importanza di questo volume nella storia della medicina, a inizio del XV secolo, quando le prime forme di opere a stampa vedono riprendere la produzione del Tachuinum, questa volta però nella forma originale. L'edizione più famosa è di John Scott, edita nella sua tipografia di Strasburgo, siamo all'incirca il 1532. Di queste copie ve ne sono molte, all'interno delle più importanti biblioteche italiane, e come vedete si sta tornando a quello che era la struttura originaria dell'opera. Naturalmente John Scott utilizza come riferimento due o tre opere e poi ne sintetizza i testi. Questi 20 manoscritti di cui ho parlato naturalmente hanno delle piccole diversificazioni perché i copisti e poi i trascrittori, forse in contatto anche con le scuole mediche locali, potevano modificare lievemente i canoni e i precetti del tempo. Però sostanzialmente tutte queste opere coincidono. In questa di Bevagna, io per fare un'opera critica più corretta, ad esempio, ho preso come riferimento un tachuinum sanitatis presente presso la Biblioteca Nazionale Gallica di Parigi. Grazie alla tecnologia, l'opera è in formato digitale fruibile a distanza ed è stato quindi possibile fare anche un confronto preciso. Grazie a questo punto devo dire a questo personaggio che ha dato lustro a Bevagna, Francesco Torti, appunto filantropo e letterato che in qualche modo, probabilmente acquisendo sotto qualche forma il volume, volle donarlo alla cittadina Umbra e poi appunto in questo particolare percorso è stato fortunatamente conservato e niente, ora è tornato da qualche anno un po' ad assumere la giusta fama che ha e a dare anche, credo, prestigio a Bevagna, alla sua festa come Alfredo prima ci ha parlato. Niente, io mi fermerei qui, non so se sono stato esaustivo, altrimenti Maurizio possiamo anche continuare un po' a parlarne. Sì, no, sei stato esaustivo sicuramente, perché ci hai, fra l'altro in maniera molto sintetica, esposto tutto quello che riguarda quest'opera. Immagino che sia stato veramente un lavoro difficile e laborioso, perché visto così da un inesperto quale posso essere io, ci perderei la testa, soprattutto nella versione araba. Ma il tachinum che c'è a Bevagna è quello latino? Sì, sì, il tachinum che è a Bevagna è quello latino, è una traduzione appunto, in questo caso probabilmente una copia di metà del 300, quando ebbe, come dicevo prima, una notevole diffusione, a partire dalla seconda metà del 200, incominciarono i copisti a farne, diciamo, numerose copie per l'utenza che ne richiedeva, e probabilmente questa è una copia delle molte che in quel momento girarono, oggi ne sono rimasti, come dicevo, solo 20. La difficoltà, naturalmente, ecco, è stata, naturalmente la traduzione dal latino, è stata soprattutto interpretare una terminologia medica fatta di tanti termini che non sono presenti nei dizionari latini, e che abbiamo dovuto termine per termine andare a ricercare, partendo dall'etimologia araba. Devo appunto, come ho detto prima, questa è la prima trascrizione e traduzione dell'opera in Italia, non esiste altra, e quindi non essendoci altra traduzione, diciamo, il lavoro è stato particolarmente complesso. Devo dire che mi sono avvalso, e questo è stato un grande aiuto però, di un lavoro fatto appunto dal professore El Kadem, che aveva tradotto al francese il testo arabo. Quindi è stato, naturalmente, benché al francese, benché non passando dal latino al testo arabo, un prezioso riferimento, un po' perché come ci rimanda il cognome, lui è di origine arabo pur insegnando a Bruxelles, in Belgio, è stato di notevole aiuto, e devo dire è anche interessante per capire come il testo sostanzialmente, seppur in piccole varianti, è rimasto praticamente intatto da quello prodotto da Ibn Butlan, a metà dell'indiceo del museo. Alfredo, chi è l'editore? L'editore è Fabrizio Fabri di Perugia, che ha fatto, credo, un bellissimo lavoro, come si può vedere. Io, ecco, volevo solo dire che la ristampa è stata possibile grazie al contributo della Regione Umbria, dell'amministrazione comunale di Bevagna e del gruppo Brugnone Sanità. Quindi, ecco, mi interessava ringraziare anche queste persone, questi soggetti. Eh beh, certo, no, questo era decisamente importante. Come diceva anche Maurizio, Maurizio Professor Tugliani, insomma, oggi si parla spesso di effetti collaterali di farmaci, di molecole, di vaccini, gli effetti collaterali a volte anche gravi, e quindi magari un ritorno alla medicina proprio medievale dell'anno 1000 sarebbe poi così male. Detto da un dottore, possiamo prenderlo come veritiero. Un'altra domanda. Al mercato delle gaite, avete pensato di riutilizzare questa quest'opera, magari, che ne so, come soggetto teatrale, piuttosto che come quadro vivente e cose di questo tipo, oppure no? Sì, sì, ci siamo, chiaramente, ne abbiamo fatto uso, no? Perché la nostra festa consiste appunto in delle gare che vengono a essere anche rappresentate da animazioni, quindi da dialoghi, per cui vengono riferite anche delle cose che sono poi scritte anche nel tacco inum. soprattutto ci siamo rifatti ai tacco inum sanitaris che appunto hanno le immagini di botteghe, di abitazioni, quindi la ricostruzione nella festa parte anche da lì, insomma partita anche da questi testi miniati. Bene, io direi che abbiamo detto tutto, a meno che non ci sia qualcosa altro da aggiungere, è sicuramente un'opera interessante e curiosa. Una cosa non abbiamo detto, credo che i nostri videoascoltatori possano interessare, il prezzo di vendita del volume. Alfredo, ci sei? Ci siete? Maurizio? Sì, io ci sono. Posso guardare, non sono io che ho curato questi aspetti, ma credo che l'edizione, per quello che è la presenza di una statica bellissima e di un volume di queste dimensioni, sia anche abbastanza contenuto, credo sia intorno ai 49-50 euro, credo. Forse Alfredo potrà essere più preciso, ma è questo il prezzo che è stato mantenuto anche rispetto alla prima edizione e devo dire anche con uno sforzo importante dell'editore Fabrizio Fabri che anche a me fa piacere segnalare per l'alta professionalità, quindi è un prodotto che è anche molto bello, come dicevo prima, eccolo qua, da sfogliare, da tenere tra le mani perché anche la carta è una carta speciale che cerca di riprodurre esattamente quella che è stata la pergamena, compreso, come vedete, l'interno della copertina che ha la stessa caratteristica della copertina in pergamena dell'edizione originale, quindi devo dire sono molto molto contento di quello che è stata l'opera dell'editore Fabri veramente di qualità. Bene, allora non ci resta che salutare, io lo faccio sempre ricordando a tutti di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org ringrazio tantissimo l'amico Alfredo Properzi della Gaita Santa Maria di Bevagna, della grande Gaita Santa Maria di Bevagna, ma un saluto va ovviamente a tutto il mercato delle gaite per non fare favoritismi, un grande ringraziamento a Maurizio Tugliani, dottore di ricerca in storia medievale all'Università di Siena, quindi grazie ancora e a presto. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera e grazie di nuovo a tutti. Buonasera.